ben ritrovati amici di youtube qui sul mio canale per un altro appuntamento tutto dedicato al calciomercato innanzitutto buona domenica perché anche di domenica che insomma notoriamente il giorno di festa della settimana non ci si ferma le trattative vanno avanti si parla oggi di giovani talenti ce ne sono alcuni che stanno infiammando il mercato sia in entrata sia in uscita un fratello d'arte parto subito da lui job berlingham classe 2005 talento cristallino già sette gol l'anno scorso in championship con il sunderland sta tirando le attenzioni in tante società almeno tre importanti di premier ma ce n'è una anche in italia che l'ha messo nel mirino si tratta della lazio presidente lotito e direttore sportivo angelo fabiani hanno avviato i contatti con l'entourage del giocatore a missione possibile vedremo c'è una forte concorrenza ci sono almeno tre squadre di premier ce n'è una e mezzo nel senso una ufficiale e un sondaggino dalla bundesliga c'è la lazio potrebbe venire fuori qualcosa anche in spagna insomma tutti i pazzi per bellingham junior il golden boy uno dei candidati al pallone d'oro la stella numero 10 della nazionale inglese ma anche il fratello cresce bene e la lazio insomma potrebbe realizzare questa operazione che sarebbe molto interessante la lazio vuole regalarsi ancora un po' di fantasia un po' di estra un po' di classe una pista porta assolutamente a joe bellingham oggi è un'idea qualche contatto c'è stato può diventare una possibilità non siamo ancora nell'albero di una trattativa avviata non siamo ancora in fase avanzata però attenzione a questo nome che non va affatto trascurato e sottovalutato lazio che poi cerca anche un esterno offensivo l'idea laurentier piace anche se sassuolo non fa sconti chiede 15 milioni perché il 20 per cento sulla vendita aspetta all'orient l'ex squadra dell'esterno offensivo la lazio col giocatore è a buon punto quinquennale da un milione e mezzo la stagione più bonus deve trovare la quadra col sassuolo invece c'è un po' di distanza la lazio non vorrebbe spendere più di 10 milioni attenzione poi anche ad altri nomi la lazio sta setacciando il mercato la sensazione che qualcosa davanti possa arrivare è stato proposto il ciò dito simeone in uscita dal napoli ma oggi non è una priorità detto questo abbiamo fatto parecchio di lazio adesso ci sposiamo un po' più al nord precisamente in lombardia perché quando si parla di giovani talenti non possiamo non parlare in questo caso del milan milan che ha ufficializzato ma non è una sorpresa ne abbiamo fatto in tutte le salse nei mesi scorsi eri nuovi di cristian comotto giocatore di talento classe 2008 contatto triennale primo contatto da professionista stessa cosa per francesco camarda che era stato corteggiato a borussia dortmund e manchester city camarda partì da sotto età dall'under 23 dal cosiddetto milan futuro in serie c il milan però guarda il futuro ma guarda anche al presente soprattutto non pensa solo all'under 23 per i giovani pensa soprattutto alla propria prima squadra c'è una pazze idea c'è una tentazione che gravita nel mondo rosso nero dalle parti di milanello di vialdo rossi e si chiama lazar samarzic adesso vi racconto tutto samarzic che riavvolgiamo il nastro estate di un anno fa anzi primi d'agosto quindi 11 mesi fa era fatta con l'inter visite mediche sostenute mancavano solo le firme sul contratto una lunga telenovela può da fare saltato a gennaio stesso film senza arrivare a delle visite mediche ma un passo dalla definizione dell'accordo con napoli un mese fa su samarzic ci aveva provato la lazio a far saltare l'affare per motivi diversi sempre come comune denominatore signor mladen samarzic di professione agente ma in realtà papà del talento serbo classe 2002 era stato avvistato a milano tanti hanno detto settimana scorsa era a milano incontrato mia no è sempre stato a berlino non incontrerà ufficialmente milan prima che milan udinese trovino un accordo milan udinese tra domani dopodomani si incontreranno a milano e li capiremo molto perché se miglia dovesse trovare una quadra con l'udinese sull'operazione a quel punto potrebbe poi accelerare però il papà resta determinante anche perché papa chiede 3 3 3 milioni di commissioni tanti vediamo forse troppi per come abituato a ragionare il miglan sappiamo che i rossoneri sono allergici alle commissioni ingenti i procuratori ma tant'è con l'inter saltò per questo aspetto con napoli idem con patate nonostante avesse trovato il napoli accordo per 20 milioni più 3 di bonus nel mercato di gennaio con la lazio non siamo neanche arrivati così avanti anche perché la lazio offriva 15 milioni più bonus udinese ne voleva 20 il milano non vorrebbe spendere 20 milioni vorrebbe spendere meno e vorrebbe inserire una contropartita attenzione a un nome attenzione al nome di tommaso pobega si era attrapato di zeroli posso confermare quanto è circolato zeroli è stato chiesto ma il milano ha detto no che zeroli capitano della primavera 2005 l'anno prossimo sarà titolare il milan futuro è una stella del nazionale under 19 che sta ben figurando all'europeo di categoria non si tocca il milano è convinto che zeroli se dovesse completare il percorso di crescita tra un anno possa affacciarsi in prima squadra e fare il percorso dei vari barri necea sulle eccetera della juve milan pensa di fare con zeroli lo stesso step quindi non ne parliamo neanche su pobega si può ragionare anche se ci sono due controindicazioni la prima milan ha pochi italiani quindi se dovesse perdere pobega con florenzi che non ha grandi figli con forse che può andare via poi dovrebbe prendere degli italiani perché pavovic è straniero perché fofana è straniero perché morata è straniero perché fulcro è straniero quindi milan deve ragionare sulla quota italiani se va già via florenzi è chiaro che pobega va tenuto eventualmente può essere tagliato ad lì anche se ad lì è poco propenso ad andare in cataro in arabia saudita sono arrivate delle offerte o benasser anche se benasser nell'amichevole di ieri con rapid vienna è entrato oggettivamente dimostrato di essere forse centrocampista con più idee nella costruzione di gioco anzi sicuramente è tra i più in palla è avviato l'azione che poi con l'assist di maldini ha confezionato il gol di florenzi dal momento non a zero prima del pareggio nel finale di usuf demir e quindi che si fa bella domanda nel senso che milan su samar dice oggi l'investimento non è convinto di farlo 20 25 milioni volerebbe cogliere l'occasione tradotto uno scambio con un piccolo conguaglio pobega può piacere all'udinese per due motivi uno perché udinese deve ristrutturare il centrocampo ha perso wallace ha perso il tucuperera quindi deve prendere due centrocampisti e perché comunque anche l'udinese non è che abbia tanti italiani quindi attenzione a questo incastro chiaramente poi per samaric si prospetterebbe uno stipendio a milione e mezzo due milioni a stagione più bonus e qui secondo me il milano può accontentare deve trovare la quota con l'udinese dopodiché poi papà mladen lo sappiamo vuole le commissioni che vuole ingenti che vuole sostanziose e da lì non se ne esce allora vi chiedo il milan fa bene a fare questa operazione samaric spendereste 20 milioni per samaric oppure uno scambio pobega con guaglio può essere invece la soluzione allettante come vedreste il gioiellino serbo in rosso nero domande parere commenti considerazioni qui nei commenti sotto il video la lazio l'idea d'aurentier può essere l'uomo giusto per alzare il livello completare l'attacco meglio andare invece che su un esterno sul ciolito simeone uscita da napoli e poi naturalmente joe bellingham questa tentazione come lo vedreste in bianco celeste insomma domande parere considerazioni tutto quello che vi pare qui nei commenti sotto al video in alto adesso la campanella da attivare per avere notifiche in tempo reale su ciò che viene prodotto e mandato online così da non perdervi neanche un video neanche una notizia di mercato se vi è piaciuto questo video naturalmente vedete qui il pollicione ci cliccate sopra mettete il like e perché no condividetelo questo video su facebook su twitter su instagram su tiktok sui vostri profighi dove vi pare nelle chat telegram nelle chat di whatsapp insomma spammate ovunque in ogni dove in tutti i luoghi in tutti i laghi come recitava la celebre canzone che vinse sanremo di valerio scanu e che dire grazie per essere stati in mia compagnia insomma andate e moltiplicatevi e soprattutto iscrivetevi al canale è gratis non costa nulla perdete mezzo secondo ma più siamo meglio e più ci divertiamo è stata una bella settimana di mercato Calafiori manca solo la firma Val Bologna che ha preso dal Ling attaccante molto interessante olandese dal Tolosa 15 milioni contratto quinquennale da un milione e sei a stagione quindi attenzione a questo nome perché può essere una bella sorpresa e lui l'erede di Joshua Zirze per la difesa invece vedremo se punteranno sull'esperienza di Hummels o su un giocatore più rodato Bijol Rugani ad esempio sono idee che il Bologna sta valutando qui le notizie arrivano a Raffica settimana prossima la settimana del Como attesa la firma di Varane insomma potrei andare avanti tanto il tempo va a mia disposizione finito allora iscrivetevi al canale vi aspetto grazie a tutti ci vediamo domani con tante notizie che c'è la Juve con l'operazione in uscita per finanziare Todiboh, Coopminers in Napoli può essere la settimana decisiva perché Lukaku è bloccato Napoli ce l'ha in pugno ma deve vendere Rosyman il Piaget deve arrivare dai 100 milioni in su quindi insomma lo stavo dicendo piatto ricco come dico sempre mi ci ficco ciao a tutti a domani grazie a tutti